Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Super Yes 4, siamo qui con PC Information e Computer Information, quindi ho da vedere questi due nuovi computer, uno non c'entra niente, non so cosa sia ma comunque, anzi solo un nuovo computer, queste sono tutte cose per la memoria, vabbè vi dispero stessi, c'è questo, HP Store, un computer HP, sì ecco, HP, 255 G6, 200 costa 292 euro, diciamo 300 tanto per dire, poi c'è questo Asus, un Chromebox, un Chromebox, non l'ho mai usato, non so neanche cosa sia, è per l'Asus, ma comunque, 209 euro, per la memoria, non so, sembra un wifi, qualcosa per la memoria, 1342 euro da un euro, spedizione gratuita, anche questo, il Chromebox di spedizione gratuita, invece questo non lo so, il computer è qui comunque, è computer, tutto, e vabbè ragazzi, vi volevo far vedere queste tre nuove cose, si sono poche, tutto qui, alla prossima volta vediamo, e quindi commentate, iscrivetevi, lasciate mi piace, e ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.